Salve a tutti ragazzi, voi trovate in questo nuovo gioco horror, e cioè The Lunatic. Io sono Subaru, e adesso vedo l'eroe. Mi sto... Ok, se già partiamo così, che già ti fai queste domande, non andiamo bene. Comunque, questo qua ragazzi non vorrono che hanno idea di cosa si tratta, hanno una idea di cosa... Che cazzo, cosa? Che è successo? C-ca-ca-ca, cosa? Che sta... No, non mi piace. Siamo già partiti e non mi sta... Weee! Salve, tu sei morta, vero? Quindi ti posso passare attraverso? Si, è un po' l'asma. Daisy, no, quindi la cruci. Potevi morire anche tu, così perlomeno vivevate insieme felici. Oh Dio, che devo fare? Ma dove sono in un manico? Oh, salve. Tu sei qui? madonna perchè la sto seguendo ma ahi prendi per il culo tu eh ah grazie grazie ah devo andare lì gentilissima gentilissima che devo fare vuoi che trovi qualcosa per te? Nei cabinetti però no! Nei cabinetti però no! ti prego no! tutto tranne nei cabinetti ma perchè? schifo madonna perchè mi fai questo? cosa si fa per amore? una bambina di 9 anni wow trovata morta questa è la triste vita prima o poi tutti dobbiamo morire con tutto il rispetto di Dio ok che si deve fare qua adesso? dove devo andare? tesora mi indichi la strada mi sono perso ok che tu... qui salve tu chi sei? prometto che tu sei quel bastardo che ho ucciso perchè ti ho trovato a lento con me vero? credo che Daisy vuoi che ti ho trovato vedete? vedete? vedete davvero vedete? dove è? potresti direi che la mi piace tanto? ahah lo dicevo io che tu avevi qualcosa contro di te ok da me uscire non daci due ma che cavolo ok soffri in silenzio per favore soccidere perchè mi hanno chiuso fuori credo eh sì ma tacci tua mi puoi... che cosa è questo? codice codice che cazzo ne so il codice oddio vabbè tutto a caso cinque due otto no cinque due ordine sulla sheet operare le sconfette operare le sconfette operare le sconfette e le botte di peroxide ok quindi ogni codice sbagliato mi apre una cassaforte sbagliata ogni codice corretto mi apre la cassaforte corretto dentro la quale c'è la chiave wow fantastica dovrei provare le ordine e le botte di peroxide oh oddio porca puttana grazie dell'aiuto eh tacci tua oh si è aperto e tu chi cazzo sei? che cazzo? oh vabbè eh oddio che cazzo? raga ma qua si aprono porte a caso? no ma muori tu? no uuuuuh ma non dovevamo giocare a nascondino? no questo non si chiama nascondino comunque questo si chiama prendita la inglo tell me how i can get out of here si infatti mi puoi dire come posso uscire da qua aspetta oh fermo ma che? oh ragazzi ma ok ti lascio in pace come ho detto bene vado madonna mia poi dicono che le donne sono complica- ah ecco ti qua cara desi ah grazie mille posso uscire? grazie sono qui ma dai veramente dai i fili si tronzi a lui ehm piano cosa? sono morto? ma che cazzo è? ma come fine della demo? ma ragazzi madonna vabbè fine della demo ragazzi ehm madonna mia vabbè ciò ciao ciao